Ragazzi, guardate in che meraviglia siamo, this is Positano, guardate che bello, stiamo facendo un sacco di foto per delle novità che scoprirete su caritashop.com, è bellissimo, c'è un sacco di gente. More, cosa stai facendo? Stai sudando? Oltre a sudare? Stai passando. Amore, ti è piaciuta questa giornata di shooting? Sì. Sì. C'è anche il nostro Armi. Ciao Armi. Guardate, ciao Armi. Ragazzi, questa è la sorpresa. No, questa sorpresa qua già la sapete. Stai inquadrando il viso? No. E guarda anche il viso. Questa è la sorpresa da adesso su caritashop.com, mi chiama Angeli. Ragazzi, comprateli perché sono fortunati. E sono anche scontati adesso, vi portano tante gioia, felicità e amore. E sono bellissime, adesso ve li faccio vedere. Allora, praticamente ragazze, finalmente vi posso svelare qual era la novità, che cosa siamo andate a scattare, eccetera. Venite su Instagram a vedere la foto che pubblicherò, che ho già pubblicato, a quest'ora sì, già l'ho pubblicato, con i chiama Angeli. E venite su caritashop a comprarli perché in tante me le avete richiesti anche io. Da quando ho saputo di essere incinta le ho fatti, ma non potevo dirvelo perché ovviamente non ho sorpresa. E ce l'abbiamo fatto, ho fatto quattro modelli stupendi. E la cosa bella è che sono anche scontati, li ho messi scontatissimi, quindi così li potete comprare. Mandateli sold out come fate voi in due o tre giorni. Non scherzo, però veramente fate in fretta perché queste cose vanno sempre proprio. Poi sono bellissimi, argento e oro sono stupendi. Guardate che adesso vi faccio vedere tutti i modelli. Comunque se venite su caritashop.com li trovate. Sono bellissimi sia per le ragazze incinte, appunto vedete che vanno proprio sulla pancia. E poi hanno questa catena che è bellissima con le palline e si può regolare. Ci sono vari cancetti dietro, quindi li potete mettere anche più corti. Ad esempio potete farle anche come una collana, così più corti. Che a mangiare sono bellissime perché portano tanta fortuna, gioia, comunque sono belli. Sia per le donne incinte ma anche nonno comunque perché sono delle collane bellissime. Quindi io vi consiglio di prenderli poi in estate con i vestiti, cioè secondo me ti vestono proprio, sono stupendi. E il prezzo è veramente bassissimo, che poi tra l'altro li ho messi anche scontati. Però il prezzo è bassissimo perché voglio proprio che li abbiate tutte. E ho guardato un po' i prezzi in giro, costano perlomeno il doppio con questi materiali, con questa qualità argento e oro. Però io veramente ho fatto i salti mortali, veramente non mi interessa arricchirmi con loro. Voglio che li abbiate tutte e che vi portino tante cose belle, sono stupendi. Veramente non si sa quale scegliere perché sono più bello dell'altro. Perché sono troppo felice di questa novità. Adesso ve li faccio vedere. Allora qua c'è Pupi, li ho messi qua sopra per farvi vedere. Allora uno è questo, quello che sto indossando io ora. Che praticamente questo qua è tutto d'argento 925. Dentro vedete c'è il sonaglino, che poi volendo si può anche togliere. Questo si apre, aspettate vi faccio vedere. Vedete? Si apre così e si può togliere, oppure si può inserire una sfera, quello che volete. E porta appunto questa collana con le palline che poi è regolabile. Ed è bellissima tutta questa trama. Questa qui con le stelline, la sono riuscita a vedere. Ecco con le stelline, è bellissima. Adoro! Ecco il mio pancione. E poi c'è questo che anche lo amo tantissimo, raga, questo è stupendo. Sempre con lo stesso sistema che si apre. Questo però è argento, sempre 925, bagnato in oro. Ed è stupendo col cuore, cioè sembra tipo i gioielli antichi, non lo so, però è bellissimo. E appunto c'è la collana, vedete, sempre con le palline, è sempre regolabile. Perché vedete c'è tutta questa maglia, si può quindi agganciare a varie lunghezze. Come al solito la targhetta Carlita, appunto che è testimonia di Carlita. E c'è anche una piccola pietrina. Eccola qua, vi faccio vedere. Si riesce a leggere Carlita? Eh, un po' la videocamera lo mette tanto a fuoco. E poi ci sono questi due che sono ancora più semplici e carinissimi. Questo è appunto bagnato in oro e questo è argento, rodiato. Non macchiano, non si scambiano, durano tantissimo. Li potete mettere anche al mare, dove volete. Questo c'è il ciocciottino, è troppo bello, guardate com'è carino col ciocciottino. E questo invece ha il cuoricino. Che poi è abbinabile anche alla collana col cuoricino e gli orecchini col cuoricino che abbiamo. Quindi potete fare anche il completo con gli orecchini. E' bellissimo. Comunque sono tutti bellissimi. Veramente si ha l'imbarazzo e la scelta su quale prendere. Perché sono stupendi. Vi aspetto su caritashop.com E fatemi sapere nei commenti se vi piace questa sorpresa. Grazie allora. Finalmente ho un po' di tempo per parlare con voi. Adesso vi voglio raccontare quello che è successo. Veramente, veramente scioccante. Perché ne succede sempre una. Metto la mollettina perché nel frattempo vi voglio anche far vedere dei sieri che mi hanno fatto la pelle. Veramente fantastica. Perché vi chiedete sempre consigli per eliminare le imperfezioni, le impurità, le macchie. Proprio avere una bella pelle. Questi sieri, vi giuro, è un amore eterno. Le amo tantissime. Sono fiera di averle sul mio shop perché sono veramente fantastici. E la cosa bella, che inizio a far vedere, c'è questo qua che si chiama Intensive Multi Active Mist. Allora, tutti questi prodotti sono vegan, naturali, biologici. E la cosa bella, perché ve lo sto dicendo, perché anche voi, come me, vi siete innamorate di questo marchio che è top. Da quando l'ho inserito sul mio shop online siete impazzite perché veramente, veramente sono buoni. Ma non sono mai scontati. Ma adesso sì. Perché non sono mai scontati. Io sono d'accordo con questa cosa perché comunque sono prodotti buoni. Veramente valgono da primo all'ultimo centesimo. Contengono tanti ingredienti pregiati. Quindi veramente sono buoni di qualità. Però veramente sono felice di aver convinto l'azienda a fare qualche giorno di sconti. Quindi approfittate e fate in fretta. Perché anche quando mettiamo i codici sconti, mettiamo i saldi, questo marchio, Eteria, è sempre escluso dai saldi. Perché appunto proprio per regole aziendali non si può scontare. Quindi adesso approfittate perché capiterà di nuovo, ve lo dico secondo me, tra un anno, che ci sono qualche giorno di sconto a 20%. Tutti i prodotti Eteria, che ragazze sono top. Io vi lascio la categoria nel box informazioni. Comunque se venite su caritashop.com trovate scritto in novità prodotti Eteria oppure andate nella lista Marche Eteria. Con il codice Eteria20 avrete il 20% di sconto su tutti i prodotti Eteria. Veramente è un'occasione unica e ripetibile. Quindi io vi dico ragazze, fate scorta. Prendete tutto, viso, corpo, capelli, tutto. È tutto ottimo. E adesso vi faccio vedere questi qua perché in questo periodo sono impazzita e sono particolarmente innamorata. Però sono tutti veramente ottimi. Altrimenti se non erano ottimi non c'erano sul mio shop. Ma ovviamente è solo il top su caritashop. Vabbè, comunque Eteria20 è il codice. Ragazze, vi giuro, sono il top. Allora, questo è un siero che praticamente se leggete l'inci è ricco di ingredienti purificanti. Vado quanto lo amo. Tipo io poi amo queste cose spray. La metto anche sul decoltier la sera quando ho il pigiama. Amo queste cose spray d'estate. Questo siero è un siero che funge, tipo da tonico anche. Che chiude i pori dilatati della pelle. E elimina le... Cioè, tutti questi prodotti ti eliminano le imperfezioni, le macchie. Vi migliorano la pelle. Vi giuro. Sono fa... Questo contiene tutti gli estratti più preziosi, illuminanti, purificanti. È veramente favoloso. Lo spruzzo anche più volte al giorno. Ed è favoloso. Poi faccio così per farlo assorbire. Vi giuro, lo amo. Ma poi è un profumo pazzesco. È bellissimo. Lo uso sia al mattino che alla sera. Infatti, guardate. Cioè, lo sto usando già da parecchio. Ho consumato solo questo perché vi durano un sacco. Quindi sono ottimi. Poi c'è il siero intensive anti-pollution. Allora, guardate come sono un belly pack. Questo qua, ragazze, è un altro siero veramente bomba. Questo è un siero purificante, ottimo. Per contrastare l'inquinamento, per contrastare i danni ambientali. Proprio per dare bellezza al viso. Purificarlo, eliminare l'impurità, l'imperfezione. È favoloso. Guardate quanto è bello. Cioè, questi sono bellissimi. Questi già i pecc sono bellissimi. Questo qua, poi è leggerissimo. Non ha consistenza. Guardate. Sembra olio, ma non è. Perché i sieri... La bellezza dei sieri è che non hanno oli. Sono particolari, sono delle composizioni, delle soluzioni tipo dense. Che si assalbano in fretta. Quindi non appicciano. Non sono gel. Quindi non appicciano. Però non sono anche oli. Quindi non ungono. E si assalbano in fretta. Quindi sono i prodotti perfetti per la routine, per la skincare d'estate. Sono favolosi. Madonna, ragazze, sapeste questo quanto è bello. Quanto si spalma bene e si assorbe in fretta. È favolosissimo. Ovviamente non trascurate il collo. E anche il decollet. E mi è caduto un po' sul vestitino. Ma vabbè. Comunque adoro. Vado anche... Metto anche sulle labbra. Metto dappertutto. È favoloso. Comunque questo qua è veramente ottimo. Il prodotto. Perché vi migliora tantissimo la pelle. Anche se avete la pelle grassa, mista, con impugna, con macchie. È favoloso. E poi c'è il siero anti-ox. Che adoro. Comunque vi metto tutti i link. In box informazione. Questo qua è antiossidante e concentrato. Infatti vi faccio vedere il colore. Guardate quanto è bello. Sono simbolano i gioielli questi prodotti. E col 20% di sconto c'è. Veramente vi giuro. Sono quasi regalati. Questo è ottimo perché continua. Guardate il colore. Contiene anche cellule staminali. Ingredienti pregiati. Questo è un siero più cremoso. Ma comunque resta un siero. Ed è favoloso. Vi giuro che se leggete lì c'è rosa da machine, estratti vegetali, vitamina E, Q10. Ecco il colore. Vedete? È un po' giallino e dato dal Q10. Quindi è antiossidante. Burro di karité. Ma ragazzi vi giuro c'è di tutto di più. Qua dentro ci sono vitamine, estratto di carota. Quindi questo qua è perfetto d'estate per contrastare i danni del sole. Le macchie, rughe, per prevenire e contrastare macchie, rughe, eccetera. Quindi è ottimo. Lo dovete usare. Proprio in questo periodo è favoloso. Sia quando tornate a casa, esempio dopo il mare, tipo come dopo il sole sul viso. Sia ogni mattina potete utilizzarlo ogni mattina, ogni sera. Adesso non lo metto perché vi faccio vedere la consistenza. Vedete? Questo qua, a differenza di quello di prima, è più cremosino. Questo profuma tipo di carota è bello. Ed è veramente questo qua, favoloso, ragazzi. E ho notato che mi dà anche un leggero colorito sano al viso. Questa cosa mi piace un sacco. Perché ovviamente, essendo antiossidante, essendo ricco di vitamine, estratto di carota, eccetera, favorisce anche l'abbronzatura e permette appunto un'abbronzatura più bella, una pelle più luminosa, più bella. Quindi questo è proprio il top. Sono tutti il top. Ovviamente io mi sono innamorata di questi siti. E poi c'è anche il siro all'acido ialuronico. Questo è un classico. E la cosa bella di questo siro all'acido ialuronico è che è arricchito da estratto di camomilla, estratto di arancio amaro, da malva, calendula, ribes, ginko, vedete? Mirtillo, salvia, che la salvia è molto astringente. Quindi non è semplicemente acido ialuronico, che poi semplicemente già l'acido ialuronico è una bomba, ma è arricchito da estratti. Quindi ha una funzione veramente fantastica col viso di migliorare la pelle. Acido ialuronico è favoloso. Potete usare questi prodotti sempre, anche col sole, anche d'estate, non danno problemi. Questo ha una funzione, vedete com'è? È bellissimo. Vedete? È molto un po'... No, dai, voglio esagerare. Adesso ne ho messi proprio tanti. Però più ne mettete, ne metto spesso due, tre, uno sopra l'altro, perché veramente sono ottimi. Questo qua lo metto un po' anche sul contorno occhi. Sono favolosi. L'acido ialuronico è quello che toglie anche le rughettine, i segni di espressione, l'imperfezione. Toppo, ragazze, toppo. E mettete anche sul collo, sul decollet, sulle mani. Cioè, questa è roba buona, ragazze, vabbè. Basta, sono troppo gasata. Niente, quindi vi volevo raccontare cosa è successo in pratica. Io a Giri mi stavo sentendo male. Nel frattempo che si asciuga, io c'avevo un ventaglio, poi l'ho portato giù. Comunque mi stavo sentendo male perché in pratica non abbiamo fatto queste foto e stavamo scattando appunto appositano, vi ho detto, per i nuovi gioielli. E in pratica cosa è successo? Avevamo delle borse, avevamo delle borse, eccetera. Comunque all'improvviso ho perso la borsa. Cioè non ho trovato più la borsa, vi giuro, raga. Vi giuro, ho provato, ho fatto proprio attimi di panico. Comunque lo metto anche lei. Che è la crema Lux Sorbet Creme. Allora ragazzi, questa crema è favolosa. E prima di tutto è spray, guardate come in particolare. Poi è una crema sorbetto. Cioè questo vi fa capire che è una crema molto molto fresca, asciutta. Come vedete non uso d'estate o creme presanti, nulla che possa ungere. E questa crema, ve la consiglio se volete, è una crema, anche questa è una sostanza tipo crema siero, che si asciuga in fretta, subito vi potete toccare. Elimina le imperfezioni, le impurità, va benissimo per chi ha pelle mista o comunque che si lucida. Ed è tipo sorbetto e profuma, anche questo profumo così, vedete? La spruzzate, si spruzza proprio. E' favolosa, e beh, va un profumo, vi giuro. Questa linea, c'è anche il tonico, prendetelo. E ha una profumazione, c'è anche la crema corpo, che è una novità. E questa crema Lux Sorbet, appunto che è di lusso, ha una profumazione che io personalmente amo, amo, amo alla follia. Comunque ragazzi, vi giuro che questi prodotti, credetemi, vi cambieranno la pelle, vi elimineranno tutte le problematiche. La vostra pelle diventerà piallata, si dice così, senza imperfezioni, inquirità, luminosa e bella. Adoro. Veramente veramente adoro. Ehterea top, 20% di sconto su Carita Shop. Ho fatto anche la riva, però veramente affrettatevi, perché non solo, questa me la metto un po' sulle mani, mi tolgo i miei meravigliosi gioielli. Non solo sono scontati, ma dura pochissimo, quindi praticamente puoi iniziare ad andare a ruba, insomma, quindi affrettatevi. Fate l'ordine oggi, massimo domani, pigliate tutto e di più, che veramente risparmiate un botto. Guardate, ma se sto ben fretta, adoro. Top. E meravigliosi gioielli che abbiamo anche rifornito. Abbiamo rifornito finalmente anche la collana Summer Vibes, che intanto è stato aspettato, gli orecchini anche quelli a lobo, con le stelline e con i cuoricini. Comunque venite a vedere, anche questi qua, con i cerchietti. Quindi vi dicevo, sto fatto della borsa, praticamente eravamo salite in un ristorante a prendere qualcosina, in un bar, e praticamente io sono andata in bagno a cambiarmi, avevo cambiato outfit e all'improvviso non trovo più la mia borsa. Io vi giuro male, comunque, cioè vi giuro ho avuto attimi proprio di panico, attimi di panico, credetemi. In cui ho detto, oh mio Dio, ho cercato, comunque non c'era, nel bagno non c'era. Ho detto, oh mio Dio, dove cavolo sta questa borsa? Perché non la trovavo da nessuna parte. Mi metto questo qua, che è quello volumizzante, alla menta, lo amo. Passiamo l'albero. Profumo freschissimo. Comunque, vi dicevo, in pratica non sapevo cosa fare, perché veramente ho pensato, ho detto, se la sono rubata, perché dove l'ho lasciata in bagno, dove l'ho potuta lasciare. Veramente, io che sono così ottimista, io che sono così fiduciosa, veramente per un attimo ho avuto paura, e ho detto, oh mio Dio, se la sono fregata, se la sono fregata la borsa. Abbiamo fatto una corsa giù, siamo andati in spiaggia, perché l'avevamo scattato delle foto, e c'era praticamente uno tipo delle, una staccionata, dove io mi ricordo che l'avevo poggiata la borsa, ma non ricordo assolutamente di averla lasciata lì. L'ho convinta di averla presa, di averla persa in bagno, e qualcuno era entrato dopo di me in bagno e l'aveva rubata. Faccio una corsa, e da lontano, io pensate, con un pancione enorme, io e Dario, io da lontano, vedo una cosa appesa lì e dico, oh mio Dio, la mia borsa sta ancora lì, e io ero nel panico, vi giuro, non per la borsa, che tra l'altro era una Gucci, quindi comunque aveva anche il suo valore, poi dentro avevo tutte le mie cose, ma io ero nel panico per lui, per il mio cellulare, perché per me lui è vita, perché c'ho sopra di tutto, e quindi tutte le foto, tutti i dati, tutto, i messaggi, tutto, quindi vi giuro che ho detto, oh mio Dio, ti prego, non fammi trovare la borsa, e l'ho ritrovata là, siamo stati a una cosa come 20 minuti, e l'abbiamo ritrovata là, quindi io sono stata veramente fortunata, ringrazio il cielo che non è passato nessuno, vedete cosa significa non rubare le cose degli altri, essere civili, vedete com'è bello, quando se il mondo fosse tutto così, ognuno ritroverebbe le sue cose, nessuno le ruberebbe, non le perderebbe mai, lo so che è magari un mondo di favole, però io ci credo nel karma, in questa cosa, perché a me è capitato tante volte di trovare cose degli altri, e non ho mai rubato, ho sempre cercato di restituirle, eccetera, credo che sia un po' anche il karma che sia tornato indietro, quindi vi esorto, utilizzo i miei numeri, i miei follower, la mia visibilità per darvi questo messaggio, non rubate, non fate questi atti così incivili, a volte fatti con superficiale o con indifferenza, perché davvero potrebbe succedere, mettetevi sempre nei panni, quanto è bello quando trovi una cosa, vi giuro, io non credevo a miei occhi, cioè per me è stata meglio di una vincita sovrenolta, è stata felicissima, quindi niente, però vi giuro che io poi dopo mi sono dovuta sedere, perché avevo tipo la tachicardia, perché comunque quando sei incinta e ti agiti subito, almeno a me, subito mi sale la tachicardia, sono dovuta stare seduta un quarto d'ora, quindi mi sono anche preoccupata un attimo, e ovviamente loro mi hanno fatto prima calmare, poi me ne sono andata, però veramente sono stata troppo troppo felice, però mi sono agitata un sacco, quindi mi è andata bene, grazie, 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 non so, grazie a Dio, però è bello, e vi auguro che vi capiti, proprio, cioè non dovrebbero succedere queste cose, non so, qualcuno passava e se la rubava, è brutto, è bruttissimo, è più bello in un mondo in cui nessuno ruba e tutti restituiscono le cose, comunque adesso mi devo truccare, basta, però sono felice. Ragazzi, guardate, mi sono truccata e non ho messo il fondotinta, perché la mia pelle è bellissima, e quindi non c'è stato bisogno di fototinta, vi piace? Trucco semplicissimo. Ragazzi, pranzetto healthy, ho fatto oggi una cosa fresca e improvvisata, in verità non so cosa ho fatto, se proprio lo vedete sapere, comunque ci ho messo riso basmati, che è la cosa che si cuoce prima, e ci ho messo dadini di prosciutto cotto che avevo in frigo, funghettini, io prendo quelli zero olio di ponti, mi trovo bene, li sciacquo bene, mi trovo benissimo, poi ho fatto una frittatina, e l'ho messa dentro tagliuzzata, in realtà era tipo un riso alla cantonese inizialmente, poi ho pensato no, che caldo, poi ho pensato ai piselli non li ho, e quindi io li ho fatto alla fine freddo, quindi riso prosciutto cotto, la frittatina tagliuzzata, tutto a freddo, ho messo anche un po' di peperoncini verdi dolci che a me piacciono, sale e olio, in verità avrei voluto aggiungere i pomodori, però mi devo un po' disintossicare i pomodori, perché mi fanno tantissima acidità, e mi avete detto voi dall'ultimo video che avevo fatto Mook Bang, che vi avevo detto sta cosa che tante ragazze incinti hanno sto problema, quindi ho sorvolato, anche se li amo, ho messo anche le olive a pezzettini e adesso mangio, è un bel piattone di riso abbondante per me e per baby. Amore, ma oggi mi vedo bellissima! No, veramente amore, ti so perché io di solito non mi vedo mai bella, mi vedo sempre un cesso, ma oggi mi vedo bella, cioè non lo so, mi vedo carina, meno passabile, la piega mi piace un sacco, i capelli come sono venuti, e poi mi piace un sacco il viso, perché la pelle sta troppo bene, quando ho la pelle che non c'è imperfezioni piace troppo, e poi mi piace questo look così che ho fatto, amore, cioè semplice, cosa amore? Dove erano i capelli tuoi? Oh, qua! Sì, sono venuti! Sono venuti, no, sono così belli i capelli! E poi mi piace questo look così, cioè naturale, pelle abbronzata e un po' di rossettino russo, che bello! Ma troppo è libero, spermo la connessione! Amore, sono bella? Sì, bellissima! E qua c'è anche i pupi, guardate a pupi! Ti ricordiamo questo? L'abbiamo messa con la cintura e la copertina, così tanto sicura anche lei! Cosa c'è amore? Ti ricordiamo questi venuti qua di sera, andavamo a correre! È vero! Quando andavamo a mangiare! Gli altri, cioè fino all'anno scorso che non ero incinta, io e mio amore la sera, tipo per esempio le otte e mezza alle nove, quando faceva fresco, andavamo a correre, a camminare, era bello! Così stavamo in forma e prendevamo aria fresca, vero amore? Sì, adesso facciamo le corse a down! E dove vado? E amico, sì! Cioè, io solo se faccio una scala mi sento di morire! Infatti, no, vabbè! Non vedo l'ora che sia ottobre, così andrò in palestra, bravi, mi rimetterò in forma! Sì, amore? Tu guarderai tu il bimbo? Sì! Ragazzi, state tutti per testimoni! Io andrò in palestra e tu guardi il bimbo? Sì, io te ne ho guarda la casa! E non mi chiami? Eh, io te ne ho guarda la casa! Direi, amore, questo sta piangendo, che devo fare? Lo voglio in blanche! E quello continua a piangere! Eeeh, lo facciamo vedere la televisione! Bravo! Non lo porto in palestra con me! Sono troppo felice! Mi sento molto globo, mi vedo luminosa, comunque, vabbè! Ragazzi, stasera andiamo a casa di una nostra amica, che è un po' convalescente, e le stiamo un po' vicino! E quindi io vi saluto qua, concludo qua questo video vlog speciale, e spero di avervi trasmesso un po' di positività, io e il mio amore, vi mandiamo tanti bacini, 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 e ci vediamo su caritashop.com con i chiama Angeli, e lo sconto di Eteria, e tantissimi prodotti nuovi, bellissimi, scontati, tutto top! Ciao! La delfina è colpa del mare, gestate non vale, già la sanno la macchina, eh, guardate quanto è bella la nostra Mercedes! Guardatela come è bella, come Gianni! Ciao! Ciao! Ciao amore! Ciao pupi! Tutto bellissimo! Ciao!